In questa edizione del Lady News, identificati i giovani amici di Ilaria Buemi, la ragazza trovata morta in spiaggia a Messina domenica sera, si indaga per capire se la sedicenne abbia ingerito dell'ex asi cattiva, oggi intanto si sono svolti i funerali. Ancora una tragedia nel canale di Sicilia, l'ennesimo naufragio di migranti è avvenuto a circa 40 miglia dalla Libia, 52 le vittime. La nomina del direttore Giammanco Allaspa di Catania apre finalmente una nuova stagione di stabilità per la sanità catanese, adesso però serve un confronto per parlare di piante organiche e di stabilizzazione, a dichiararlo il segretario provinciale della Will FPL Stefano Passarello e la CISL chiede che sia avviato il Dipartimento per l'integrazione socio-sanitaria. Stradella città sempre più pattumiere a cielo aperto con un notevole rischio per i cittadini, abbiamo fatto non sopralluogo in diverse zone di Catania. Vacanze più sicure per chi viaggia in auto, basta seguire semplici e pochi consigli forniti alla polizia stradale. Intanto Manfredi Zammataro e l'associazione Codici denuncia la pericolosità dell'autostrada Catania a Siracusa con la galleria completamente al buio. Dal 19 luglio volare nel bello è di Norma, territorio, cibo e cultura, il luogo d'arrivo. Norma, that's Sicilia, l'officina delle eccellenze, aeroporto Fontana Rossa Catania, ex terminal arrivi. Format, rendiamo concrete le vostre idee. Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser, progettazione e realizzazione in plexiglass. La stampa che prende Format. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi i corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsi Italia 168. I due giovani che erano con la 16enne Ilaria Bohemia nel momento in cui ha perso i sensi e poi è morto sulla spiaggia del Ringo a Messina sono stati identificati. Si tratta di una minorenne coetanea di Ilaria e di un ragazzo maggiorenne. La polizia sta cercando di ricostruire con loro gli ultimi momenti della vita della giovane. La pista privilegiata dalla procura è che la ragazza possa essere morta da aver ingerito dell'ex si cattiva. I due ragazzi vengono sentiti come persone informate dei fatti. Secondo le prime informazioni non sarebbero stati loro a consegnare eventuali sostanze sui facenti alla minorenne. Sarebbero fuggite all'arrivo di persone per paura di essere coinvolte e la squadra mobile sta cercando di accertare se conoscono l'eventuale spacciatore che abbia venduto l'ex sia Ilaria. Per conoscere con certezza la causa della morte Ilaria bisognerà comunque aspettare l'esame tossicologico. Intanto all'autopsia effettuata ieri mattina al Policlinico di Messina, secondo le prime informazioni non sono risultate malformazioni o patologie congenite. La possibilità che la ragazza sia deceduta a seguito dell'assunzione di droga dunque è una possibilità concreta, mentre la possibilità che viceversa vi sia della droga letale in circolazione è soltanto un'ipotesi investigativa sulla quale stiamo lavorando, afferma il procuratore aggiunto di Messina, Sebastiano Ardita, che sta coordinando le indagini. Se dovessimo trovare conferma a questa ipotesi, aggiunge, avvieremo controlli anche con le altre procure che trattano casi analoghi per verificare se in Italia sta girando l'ex si letale. Intanto questa mattina nella chiesa valdese di via 24 maggio in Messina si sono svolti i funerali della ragazza, con momenti il ricordo della sorella. Siamo cresciute insieme, io la sorella maggiore e tu quella minore. I primi bagnetti insieme, i primi giochi insieme, le prime risate insieme, le prime litigate insieme, a volte anche qualche bastonata. In un posto su Facebook la sorella poi aggiunge crescendo, le nostre strade si sono divise, tu non eri più la stessa, solo Dio sa quante volte mi facevo il sangue amaro a vederti con un piercing nuovo, con un nuovo colore di capelli, ma allo stesso tempo rivedevano ai tuoi occhi la stessa bambina di un tempo, desiderosa di affetto e di una mano di aiuto. Ed io non potrò mai perdonarmi di non essere stata in grado di farlo, perché io ero quella più grande, io dovevo dirti cosa era giusto e cosa no, che questa vita fa schifo e che non bisogna fidarsi delle persone. Scusami, conclude nel posto la sorella. Il canale di Sicilia si trasforma, ancora una volta, in una tomba per decine di uomini e donne e bambini che scappano da guerra e disperazione. L'ennesimo naufragio di migranti, ormai se ne conta quasi una settimana, è avvenuta una quarantina di miglia dalla Libia, non molto lontano al punto dove il 5 agosto scorso è affondato un barcone con a bordo oltre 600 persone, almeno 200 e le quali sono finite in fondo al mare. Stavolta i dispersi, dunque morti, potrebbero essere almeno 50, secondo il racconto fatto e gli stessi sono avvissuti agli uomini della Marina Militare che li hanno soccorsi e salvati. Il legomone su cui viaggiavano, hanno detto, era partito nella notte dalla Libia, ma a un certo punto la navigazione ha iniziato a sgonfiarsi. Un problema non nuovo, visto che ormai da mesi i trafficanti di uomini che operano sulle coste libiche utilizzano gommoni monocamera con un fondo formato da un paio di assi di legno e nient'altro. Bare galleggianti, insomma, che vengono riempiti di 100-120 migranti per viaggio, con un motore 40 cavalli e due taniche di benzina. Va su una scintilla di sigarette, un oggetto appuntito che struscia anche involontariamente sul galleggiante e il disastro è fatto. Il gommone va a fondo in pochi minuti. Così probabilmente è accaduto oggi e solo la prontezza di uomini della Marina Militare ha consentito di evitare che di questi disperati non si sapesse nulla, come accaduto già altre decine di volte. L'elicottero di nave Mimbellin, per l'ustrazione della zona, ha infatti avvistato il gommone in difficoltà e ha subito lanciato le zattere di salvataggio. Dal gommone non era partita nessuna chiamata di soccorso, forse perché nessuno a bordo aveva un telefono satellitare. Gli uomini sull'elicottero, inoltre, hanno immediatamente lanciato l'allarme in pochi minuti, arrivata a tutta velocità in zona nave Fenice, che aveva appena terminato un soccorso di altri 120 migranti. I marinai sono riusciti a recuperare 52 persone che, una volta a bordo, hanno raccontato la loro storia. Eravamo un centinaio sul gommone, molti sono dispersi. Le ricerche nella zona al momento non hanno dato però alcun esito, né altri vivi nei corpi dei presunti dispersi sono stati individuati e recuperati. Sia i 120 migranti soccorsi in mattinata, sia i 52 superstiti sono stati successivamente trasferiti su due motovedette e la guardia costiera partita da Lampedusa, dove rientreranno a tarda notte. Al momento non viene segnalata la presenza di altri barconi. Le condizioni del mare agitato con venti, forse cinque, sono in peggioramento e non dovrebbero migliorare prima di venerdì. È dunque probabile che per 24-48 ore i viaggi e la morte subiranno un rallentamento. E fra questi 52 uomini ci sono anche due uomini che sono riusciti a sopravvivere e dunque a scampare alla morte perché si sono aggrappati ad un marile. È stato il personale dell'elicottero di nave Orione della marina militare a poterli salvare. Trasbordati prima sulla nave Mimbelli per un controllo sanitario, i due sono stati poi imbarcati sulla nave Fenice che li sbarcherà alla Bedusa in giornata. Dopo mesi finalmente arriva l'ok da parte dell'Aggiunta regionale alla nomina di Giammanco quale direttore dell'Asp di Catania. Un'Asp rimasta per troppi mesi senza una guida, quindi una nomina che adesso potrà portare solo stabilità a quella che è la situazione catanese, il sistema ospedaliero catanese così come voi della UIL avete da sempre auspicato. Ciò che serve adesso è un confronto con il nuovo direttore generale perché comunque i problemi non mancano. Piante organiche carenti, problemi nel pronto soccorso, insomma una nomina importante ma adesso bisogna lavorare. Sicuramente, finalmente la direzione generale è completa. Noi siamo per il momento soddisfatti perché hanno segnalato una persona giusta al posto giusto. Sicuramente noi, la segreteria provinciale della UIL di Catania diretta da Fortunato Parisi ed io come FPL con la mia segreteria ci sarà sicuramente un confronto con il direttore generale perché da parecchi mesi, quasi un anno, è stata come dire andiamo avanti tanto per campare. La situazione è un po' disastrosa. L'impegno è così tale che noi dobbiamo fare sempre ragionamenti di confronto, dobbiamo vedere la pianta organica, cosa manca realisticamente, dobbiamo vedere i pronto soccorsi nella provincia di Catania come funzionano, dobbiamo dare al contratto anche le fasci che per il momento i lavoratori sono penalizzati. C'è parecchio lavoro da fare. Essendo che c'è una persona comprensiva, anche con un modo giusto di affrontare le cose, noi come UIL ci confrontiamo assieme agli altri sindacati naturalmente di portare avanti questo progetto perché è da parecchi anni che l'aspe di Catania è completamente ferma. Per quanto riguarda poi la situazione dei precari, sono tanti e da tanto tempo aspettano una stabilizzazione, potrebbe essere questa la volta giusta? Sicuramente perché c'è stata una grande discriminazione l'anno scorso. La cosa che non ha funzionato, hanno licenziato per scadenza di contratto giustamente e poi hanno considerato altri che l'hanno fatto entrare discriminando quelli che avevano già il contratto. Queste cose si devono abolire completamente. Noi come UIL questo confronto lo desideriamo col direttore generale per avere la chiarezza soprattutto per come devono andare le cose. E sulla nomina del dottore Gian Manco all'aspe di Catania interviene anche la CISL e la CISLFP. I due segretari, Rosaria Rotola e Armando Cocono, sperano adesso che il Dipartimento per l'integrazione sociosanitaria, la stabilizzazione dei 32 precari o il lavoro di squadra per la comunità catanese, sia uno dei punti principali su cui confrontarsi. Oggi finalmente, dicono, con la ratifica dell'aggiunta regionale è stata messa alla parola fino a un periodo di indeterminatezza durato quasi tre mesi e si potrà lavorare tutti insieme nell'interesse dei cittadini, dei lavoratori e delle potenzialità del territorio catanese. Per Rotola e Cocono c'è da portare avanti la revisione dell'atto aziendale per adeguarlo a quanto previsto dagli atti nazionali e regionali in tema di sanità, per dare maggiore efficienza ai processi aziendali dell'ASP catanese. L'obiettivo, sottolineo, è costruire quel Dipartimento per l'integrazione sociosanitaria, tappa fondamentale per la valorizzazione e per l'attività territoriale, come i servizi agli anziani, l'assistenza domiciliare, il ruolo del medico di famiglia e l'istituzione dell'infermiere a domicilio. Uno scenario da città del terzo mondo, da città completamente abbandonata, è quello che si presenta agli occhi dei cittadini che percorrono via Cireale nel quartiere di Picanello a due passi da piazza Mancini-Battaglia, quindi dal mare, dal lungomare che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra città. Ebbene, percorrendo via Cireale la prima cosa che si nota è un manto stradale dissestato, tantissima spazzatura e poi angoli pieni di ogni tipo di scarto che i cittadini lasciano per strada, è quella colpa dei cittadini ma anche di un'amministrazione assente in alcune parti della città, come appunto è via Cireale. Le immagini parlano chiaro e forse ogni parola è superflua nel descrivere quello che è lo scenario che si presenta agli occhi di noi che qui stamattina siamo venuti a fare un sopralluogo, ma soprattutto di chi in questa zona ci abita. C'è spazzatura in tutti gli angoli, ci sono materassi, ci sono mobili vecchi e abbandonati, ci sono rifiuti di ogni genere buttati per terra ma anche agli angoli delle strade e poi c'è la strada che non è asfaltata. Per le macchine che passano da qui è difficile riuscire a transitare senza danneggiare la propria vettura. Siamo sotto poi un ponte che dovrebbe servire un giorno a collegare via del rotolo con la zona della circombolazione. Il famoso progetto per liberare il lungomare dalle auto è per permettere un'arteria alternativa, progetto che come sappiamo ha iniziato tantissimi anni fa e che non vede mai una fine. Insomma, un'incompiuta a Catania che si trasforma in una spazzatura a cielo aperto. E non va meglio di certo in altre zone della città, effettuando un sopralluogo. Soprattutto nelle periferie sono tante le discariche a cielo aperto che abbiamo trovato. Nesima, Picanello, Librino. Insomma, in ogni parte della nostra città ci sono diverse zone che si trasformano in delle grandi pattumiere. Colpa, come diciamo, dei cittadini, ma colpa anche di un'amministrazione delle forze dell'ordine che forse controllano troppo poco e sanzionano ancora meno chi commette questi reati. Zone che diventano anche pericolose per chi lì vicino ci abita o per i bambini che, giocando per strada, possono facilmente imbattersi in qualcuno di questi rifiuti, mettendo a rischio la propria salute. Senza tralasciare il fatto che in molte zone ci sono erbacce secche che, in periodi estivi e soprattutto con il caldo che si sta registrando in questi giorni nella provincia di Catania, possono essere facili focolai per incendi con conseguenze devastanti. Settimana di fra agosto si sa coincide col grande esodo. C'è chi parte anche solo per qualche giorno, per fare la classica gita fuori porto, per fare la vacanza fuori. Tanti i viaggiatori che utilizzano l'auto. Allora, quali consigli dà la polizia stradale a chi si mette in auto per affrontare un viaggio? I consigli sono innanzitutto quelli di mettersi in viaggio in buona, in ottime condizioni psicofisiche. Quindi senza aver assolutamente bevuto bevande alcoliche e possibilmente avendo mangiato cibi leggeri e non in grossa quantità. Secondariamente controllare bene tutti i dispositivi di sicurezza utili per la sicurezza dell'auto. Quindi ad iniziare dalla pressione delle gomme può sembrare banale anche provvedere al carburante perché in questi giorni rimanere, se c'è per caso una coda, una fila, un rallentamento, rimanere senza carburante sulla strada, in autostrada in particolare, diventa un problema nel problema. Un altro consiglio, un altro monito se mi è consentito dare è quello di rispettare tutte le norme del codice della strada, non solo quelle sulla velocità che sono importanti perché la velocità nel circa 60% dei casi costituisce o la causa o un aggravante, un elemento determinante per il verificarsi di incidenti. Assolutamente evitare distrazioni con i cellulari che devo dire da quello che vedo a Catania purtroppo è un fenomeno ricorrente e anche più è quasi ormai diventata una piaga oserei dire perché vediamo utenti conducenti di mezzi, anche di mezzi pesanti che utilizzano il cellulare e in questo senso c'è una campagna già in atto da parte del servizio polizia stradale di Roma volta a sensibilizzare tutti quanti e in particolare gli organi di polizia stradale a censurare e a reprimere questo fenomeno. Altra piaga che noi cerchiamo sempre di arginare è quella di evitare di percorrere le corsie di emergenza in autostrada perché sono essenziali per eventuali soccorsi da parte o della polizia stradale o soprattutto di eventuali mezzi di soccorso quali ambulanza o altro in caso di incidente. A proposito di incidente possiamo fare un raffronto con lo stesso periodo dell'anno scorso che numeri abbiamo? Sì, allora i numeri sono più o meno nel primo semestre di quest'anno sono più o meno analoghi ai numeri dell'anno scorso, anzi forse c'è stato nel primo semestre una leggera diminuzione, viceversa in ambito nazionale abbiamo riscontrato la polizia stradale nei primi 20 giorni di luglio ha riscontrato un aumento di circa il 30% degli incidenti mortali. Speriamo che sia un fatto episodico ma è un segnale importante, ci deve far riflettere noi come polizia stradale e tutte le altre forze di polizia a prestare maggiore attenzione e anche gli utenti della strada a stare particolarmente attenti vista questa recrudescenza di questo fenomeno. A mettersi in auto sono soprattutto tantissimi giovani, soprattutto dopo serate, non sempre condotte nelle migliori dei modi, fatti di cronaca degli ultimi giorni purtroppo ci informano a tal proposito di eventi molto brutti. Voi fate classici test per quanto riguarda l'alcol, siete anche in grado di fare dei test tossicologici o quelli non competono a voi? No, i test tossicologici competono a noi, noi in questo caso ci avvaliamo anche delle strutture sanitarie presso gli ospedali e in fase di sperimentazione un nuovo protocollo da parte della polizia stradale che consente anche i test tossicologici su strada. Ma l'alcol è un qualcosa che noi facciamo, il test anti-alcol è un qualcosa che noi facciamo pressoché a tappeto a tutti i conducenti di veicoli, giovani, meno giovani, in ore diurne, principalmente notturne. Da autostrada eccellenza, fiore all'occhiello in Sicilia ma anche in Italia, adesso la Catania Siracusa è diventata l'autostrada dimenticata, in particolar modo per quanto riguarda tutti quegli accorgimenti che dovrebbero fare di una strada una strada sicura. Parliamo ad esempio della galleria, quella lunga, più di tre chilometri, completamente al buio. Ciò mette a rischio l'incolumità degli automobilisti che una volta entrati in galleria si sentono costretti quasi a frenare o rallentare di botto creando difficoltà anche alle macchine che si trovano dietro. Sì, diciamo che la situazione, la salute delle autostrade siciliane non è certamente delle migliori. Parlo della Catania Messina, anziché la stessa Catania Palermo con tutte le problematiche collegate ma ciò che colpisce certamente le condizioni che riguardano la Catania Siracusa che appunto era un'autostrada intanto molto più moderna, molto più presentata e inaugurata pochi anni fa e che doveva essere proprio un'autostrada che si caratterizzava proprio per la sicurezza e per i sistemi di sicurezza. Ogni giorno ci arrivano decine di segnalazioni da parte di utenti che in questi giorni di agosto affollano le strade soprattutto la Catania Siracusa in direzione Siracusa appunto che denunciano una serie di disservizi. Abbiamo voluto quindi costatare di persone, ci siamo resi conto appunto di come le condizioni dell'asfalto in alcune parti non sono delle migliori ma la cosa veramente grave è l'assenza totale di illuminazione all'interno delle gallerie. Questo comporta come diceva lei un problema di grande sicurezza per gli automobilisti in quanto si trovano a dover fronteggiare una situazione di totale buio all'interno delle gallerie che comporta problemi di visuale della strada oltre che tutta una serie di problemi collegati in quanto le automobili sono costrette a frenare bruscamente e quindi anche le altre autovetture spesso si trovano costrette a dover fare manovre di emergenza mettendo a repentaglio la vita non solo degli automobilisti ma anche dei tanti centauri che con le moto frequentano le autostrade. Io e la nostra associazione associazione codici da questo punto di vista sta raccogliendo tutte queste segnalazioni intende prima di tutto fare una richiesta formale di accesso agli atti al Consorzio Autostrade Siciliane per capire per quale motivo ad oggi ancora questo problema non è stato risolto tenuto conto che ormai da diverse settimane se non da mesi che questa situazione permane. Non capiamo com'è possibile che con tutti gli operai dediti alla manutenzione il Consorzio Autostrade Siciliane non si è voluto intervenire prontamente in maniera veloce. Questo proprio perché riteniamo che in un periodo così alta affluenza di mezzi e di veicoli all'interno delle autostrade aumenta inevitabilmente il rischio di incidenti. Un'altra segnalazione riguarda le colonnine dell'SOS che in molte parti ormai delle autostrade sono totalmente dismesse, non funzionanti. Questo cosa comporta che se un automobilista disgraziatamente dovesse avere un problema con la propria automobile, non avere campo col cellulare, avere un cellulare in quel momento non in uso, non può materialmente chiamare aiuto. Non è una condizione questa di sicurezza per i cittadini, per questo ci muoveremo se il problema non sarà risolto in brevissimo tempo ci muoveremo anche con un esposto alla procura per una denuncia formale in quanto vi è un serio attentato alla sicurezza degli utenti della strada.